Salve a tutti amici dei Transformers da JustLuca di Autorobo.it e benvenuti a una nuova video recensione di Transformers abbastanza nuova dai dato che oggi parliamo di Legacy Evolution Shadow Striker Cyberverse Universe perché specifico Cyberverse Universe? Perché la nostra personaggia qui, la nostra fanbot proviene appunto da una delle millemila serie e linee di giocattoli di Transformers e appunto la trilogia di Legacy di cui Evolution è la seconda parte e quest'anno è uscita appunto la terza parte United che sfocia nel quarantennale di Transformers appunto per festeggiare questo evento. Legacy è una cosiddetta linea minestrone e presenta personaggi presi non solo principalmente come di solito sono le linee generation da quando sono state create, non solo dalla famigerata famosa G1 ovvero la prima linea diciamo cosiddetta G1 la linea dei Transformers originale che va dall'84 al 90-92 ma appunto pesca un po' da linee anche recenti e appunto Cyberverse è stata questa serie di cartoni linea di giocattoli per bambini fra virgolette nel senso che alla fine sì giocattoli erano abbastanza rozzetti diciamo non proprio da collezionisti adulti per carità come piacciono a noi però a livello di trama delle storie non era affatto male e soprattutto era una serie che diciamo era sì l'ennesimo reboot della della G1 potremmo dire soprattutto per via dei personaggi erano parecchio tanti G1 in mezzo con qualche personaggio preso un po' da qualche linea così è temporanea tipo Cheator di Beast Wars o anche la Clobber che si rifà a Lugnut e Stryker di Animated ma sa la nostra qui Shadow Striker pareva essere una delle poche dei pochi nuovi personaggi poi anzi no nella terza stagione ne hanno fatti anche di nuovi proprio verso il finale della terza stagione giusto per puntalizzare ma inizialmente la nostra Shadow Striker era una dei primi della prima serie della prima stagione di questi personaggi che parevano essere inediti per la serie invece neanche tantissimo inedita dato che si rifaceva come nome a un personaggio diciamo esclusivo di anta anni fa no anta no enti anni fa di ben venti anni fa lei non c'entra niente ma si rifaceva praticamente a uno scuro repaint tratto dallo stampo del buon Sideburn Reed Carlobos del 2000 visto che il corpo qui del nostro Sideburn si presta ad essere riciclato appunto come corpo da fanbot erano state fatte questo paio di di repaint anzi neanche tanto repaint e remoldo dato che aveva una faccia diversa più femminile appunto basate su questo stampo questi nuovi personaggi erano una si chiamava roulette un'altra Shadow Striker e così come hanno fatto ad esempio Skyquake un personaggio di Prime che però si rifaceva anche casualmente era omonimo di un altro personaggio un po' misconosciuto della cosiddetta G1.5 ovvero una linea vista solo in Europa dove c'era questo aereo Predator della sottogruppo di Predator appunto e questo Skyquake Prime versione Legacy omaggiava anche quel personaggio lì era una fusione diciamo un ibrido fra il Prime e questo G1.5 chiamiamola cosa in questa linea di Predator del 92 circa praticamente 90 92 giù di lì praticamente hanno fatto la stessa cosa qui per il nostro per la nostra Shadow Striker dato che appunto il corpo la modalità robotica si basa parecchio non sulla versione vista appunto nella 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 serie cartoni animati e anche nei pochi pochi si giocattoli usciti per Cyberverse appunto si rifà appunto invece omaggia l'originale omonima appunto è una crasi fra diciamo la versione Cyberverse e la versione Universe che si basava sul giocattolo appunto di Sideborn che di suo Sideborn tra l'altro era abbastanza atipico in quanto come forma robotica era come si dice non speculare scusate asimmetrico ecco non mi viene mai quella parola abbastanza asimmetrico dato che aveva già la faccia denotava l'assimmetria diciamo con un casco in particolare con un visore solo su un occhio per dire laddove poi aveva ad esempio il paraurti dell'auto anteriore come spalla e tutto il tettuccio come si può vedere a mo di scudo attaccato al braccio per non dire che era anche un po ai tempi come si può dire una spina nel sedere scusatemi l'espressione trasformarlo perché era tra i dei tre fratelli Autobot che magari prima o poi recensirò era quello un po più fastidioso trasformare per tutta sta storia di inquisi in casa di questa trasformazione un po troppo elaborata appunto Cyberverse Shadow Striker praticamente omaggia il nostro con un look appunto asimmetrico con lo scudo qui attaccato anche sul braccio destro ma diciamo questo scudo sul braccio destro è diciamo abbastanza è per scelta messo messo sul braccio destro dato che a differenza dell'originale lo scudo si può a parte vabbè si stacca facilmente scusate dal perno tutta la parte in plastica trasparente ma volendo appunto lo scudo si può staccare e sistemare sull'altro foro dell'altro braccio che invece ha il paraurti posteriore staccato che però non può essere sistemato a mo di coprispalla dall'altra parte purtroppo quindi va messo diciamo sull'avambraccio giusto per centuare la simmetria che un po c'è solo a livello del braccio delle braccia dato che possiamo vedere come già il nostro aveva il simbolo Autobot sull'avambraccio sinistro la nostra ha il simbolo Decepticon sull'avambraccio anche lei sinistro per omaggiare appunto per citare il look del nostro sideburn così come le cosce sono scusate le ruote sono sulle cosce laddove la cybervers shadow strike aveva le ruote a livello delle gambe con le gambe più più larghe verso la parte bassa così come ci sono questi pannelli appesi che sono le portiere che omaggiano citano i pannelloni qui appesi dietro al buon sideburn idem il petto formato dal motore in vista sul cofano dell'auto appunto come il buon appunto sideburn diciamo che dell'originale dell'originale della versione cybervers del personaggio la nostra la faccia con questo con questo mirino sull'occhio questo particolare qua sulla cintura al centro comunque della cintura e vabbè diciamo le ruote dietro la schiena le ruote anteriore dietro la schiena posizionate così piatte sulla schiena per il resto praticamente la nostra è completamente diversa a parte la colorazione che però c'erano tocchi di più azzurro nella versione robot punto cybervers laddove appunto comunque nella nostra qui invece più viola e nera di solito io sono un po allergico ai transformers monocromatici ma tutto questo viola smorsato si un po dal nero per una volta devo dire che mi piace questa colorazione tendente al monocromatismo diciamo un unico colore senza tanti colori magari vivaci a contrastare di solito a me piacciono più trasforme con colorazioni vivaci questa volta devo dire che non mi dispiace così come la struttura robotica è un po atipica potremmo dire ma servirà per la trasformazione e già già mi piace a livello di di robot perché appunto si respira aria di di diverso dal solito se devo dirlo a proprio a livello di piuttosto che i soliti magari robot si già si intuisce che la trasformazione sarà particolare fare le altre cose vabbè ci sono i fori per le armi può sparsi dove capita qui uno al centro della schiena e uno anche sopra e sui avambracci dicevamo poi il discorso della citazione delle armi ah scusate un'altra una parentesi sul personaggio di cyberverse di cyberverse shadow striker scusate faccio fatica a ricordarmi il nome abbiate pazienza i nomi nuovi di transformers devo ancora memorizzarli tutti ma appunto shadow striker di suo come personaggio era interessante perché si presentava con un look diciamo normale tutto viola appunto nelle storie flashback del cartone animato laddove poi saltava fuori che aveva una faida con bumblebee perché durante uno scontro con bumblebee nel passato certo punto rimane praticamente mezza morta bumblebee non la finisce viene però recuperata da shockwave shockwave la fa tornare diciamo quasi in vita diciamo l'area la ripara sperimentandoci un po però facendo una sorta di patchwork di pezzi di altri robot e quindi l'aspetto suo poi definito terrestre sarà quello di appunto di questo robot e anche l'auto formata da pezzi diversi di auto cosa che però già nella linea cyberverse non facevano nel senso che mostravano la per pigrizia diciamo la nostra shadow striker come appunto solo nella sua versione cyberthroniana diciamo tutta viola idem anche qui possiamo vedere e non è della versione patchwork non ha di certo la colorazione diciamo potrebbe averlo discorso di essere un po patchworkata col discorso delle delle parti appunto asimmetriche forme formate appunto dallo scudo dicevo se riesco di attaccarlo dallo scudo appunto che sulla parte qui sul braccio destro questa parte dicevo del del paraurti che si stacca può essere non può andare sulla spalla però può essere sistemato giusto per dare un tono di di assimetria al personaggio che di suo si rifaceva a livello di stampo al al sideburn quindi alla versione repaint shadow striker però non è stato usato a livello di colorazione un po un peccato perché era quello il bello diciamo il personaggio in cyberverso non da un altro però è bello tutto viola così eventualmente chissà che rifaranno un eventuale repaint appunto dedicato proprio con quella colorazione la una cosa particolare che cita sempre il buon sideburn qui è l'arma una pistola che ha due impugnature che diventa anche un pugnale dato che con un'arma sola fanno imitano entrambi citano entrambe le armi del nostro vero appunto sideburn aveva questa sorta di pugnale anche qui con la doppia impugnatura che poteva diventare una sorta di pistola come questo possiamo vedere il pugnale appena appena scolpito vabbè sulla canna tra l'altro con un'impugnatura dedicata dato che per colpa di questa fossetta qui riesce giusto giusto a essere impugnato dalle mani semi aperte della nostra ma in più grazie appunto al paraurti che si può mettere davanti alla canna perché imita anche l'altra pistola con l'altro fucile del nostro sideburn che era questa sorta di balestra formata appunto da da una parte dell'auto appunto del balestra da un fucile con tanto di missile anche questo riciclato dal tubo di scappamento visto che non si dice non si buttava via niente in quei tre modellini anzi soprattutto in questo qua di di carlo boss originali quindi diciamo con colpo solo riescono a citare le armi del nostro sideburn o anche della shadow striker originale appunto e quindi vabbè diciamo alla fine non è male questo discorso qua delle citazioni delle armi vabbè alla fine questo qua l'unica parte effettivamente part former del giocattolo che però può essere ricicciata come pseudo arma citativa del sideburn questo qui per il resto è bello è bella snodata c'è anche la rotazione dei polsi buttala via solite rotazioni ah sì volendo l'arma può andare può sistemarsi a riposo sotto questa questo pannello qua dietro la schiena quindi modalità robotica quindi vabbè non sto a farlo ma si può fare quindi niente male come discorso niente male come robot atipico diciamo quanto fanbot è un po piccina potremmo dire nella scala delle altre fanbot siamo lì appunto però adesso ci sta amari come modalità robotica che non sia troppo grande come fanbot ma adesso andiamo a vedere l'altro punto forte secondo me di questo personaggio a parte discorso però ripeto un po che non hanno ripreso effettivamente la cyber verso il personaggio cyber ma si sono rifatti completamente a livello di corpo al sideburn perché ovviamente poi ne rifarne faranno una versione sicuramente anzi forse già stato annunciato se mi ricordo nelle liste si le solito licate il fatto che uscirà questo stampo qui come sideburn però vedremo come ma almeno la testa di sicuro intanto quella dovrebbero cambiarla ma appunto una cosa molto interessante questo modellino era la trasformazione stacco per anzi forse meglio lasciarlo dicevo almeno lo scudo il bello dello scudo è che può staccarsi da una parte all'altra un altro braccio indistintamente può rimanere comunque poi attaccato per farci il quindi non è un partner praticamente volendo non è un partner ma volendo lo scudo può spostarsi quindi niente male come idea almeno quella diciamo a livello della storia davvero uno scudone così attaccato la trasformazione dicevo è niente affatto male dato che vede tutta la parte qui della schiena che si proietta verso l'alto in questa maniera e già poi i pannelli delle portiere scusate ruotano nasce all'interno in questa maniera si solleva il petto anzi tra l'altro fa un po ridere diciamo il fatto che il la punta qui del muso del dell'auto salti fuori in questa maniera cioè è bella come trovata il fatto che il muso si arrotoli verso l'interno si agganci al allo scheletro diciamo del busto però ripeto se guardare la l'aspetto della cyberverse shadow striker era meglio se invece in qualche maniera riuscivano a sistemare appunto le due metà del muso dell'auto come petto così come era appunto almeno quello aveva dal della cyber del personaggio salversi invece il corpo e con il petto preso di peso dalla versione di coso della shadow striker universe che si fa di fa sideburn ribadiamo però ok che hanno preso qualcosa ma a livello di ibrido siamo almeno poi di ripeto di robot siamo molto pendenti dalla versione dell'originale e poco conosciuta shadow striker universe quindi peccato ma comunque come trasformazione non è niente male anche se adesso viene un po vengono i dolori perché la trasformazione dice a chi bisogna adesso vediamo se riesco a farla di nuovo perché bisogna appunto abbassare poi le gambe farle tornare lì indietro questa maniera agganciarle ai lati del dello scheletro diciamo del busto e poi bisogna abbassare il cofano ovviamente sul muso peccato che non so come mai si faccia una fatica del cavolo vediamo se un po si è allentato a sta cosa qua ad agganciare i pernetti qui vediamo se si vede questi pernetti piccini picciò qui davanti fanno si fa una fatica immensa ad agganciarli ai fori 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 foracchini qui quindi o si prova a premere forte non ho trovato forse ce l'ho fatta questa volta si forse si è un po allentato sta cosa qua perché inizialmente faceva una fatica non indifferente ecco qua si sono un po allentati erano un po duretti agganciamo quindi appunto alle portiere ok e chiudiamo le braccia e con tutto il deve buttare il tettuccio e sempre tende a staccarsi per lo strumento di bello cosa c'ha comunque questo di questa auto un po come l'originale sideburn che aveva tutte le armi integrate all'interno questo questa pistola può sistemarsi fra le fessure delle braccia a cui si intravede tra lo spazio che ci sono fra la fessura che c'è insieme lo spazio fra le due braccia si può sistemare all'interno non è fissa però una volta chiuso resta abbastanza ferma ma la lascio fuori la pistola perché dopo mi serve per mostrarla nella modalità di auto però di bello ecco appunto che la pistola può nascondersi e almeno questo cita bene il l'originale appunto sideburn quando ci quando avverrà il tempo che ne faranno un repent ora e molto da questo stampo chiudiamo quindi il tettuccio chiudiamo che il retro appunto con la parte di posteriore insomma dell'auto ed ecco qui la nostra automobile allora appunto un'auto mobile diciamo che sarebbe abbastanza somigliante all'originale cyberverse shadow striker perché appunto a il muso con questa parte del muso staccata un po' prominente rispetto al resto del cofano i fari sono abbastanza simili a proposito dimenticavo da notare la ganzata la fighezza la genialata di lasciare appunto il simbolino che era sul pube al centro della nostra praticamente il pube diventa appunto la punta del muso dell'auto con il simbolino che rimane così come appunto si vede nell'auto effettiva della cyberverse nel design della cyberverse quindi davvero questo un tocco di classe non da poco onestamente non dico che vale tutto il biglietto dell'acquisto del modellino però davvero una bella pensata dicevo questa parte qui le ruote con i cerchioni così rossi futuristici fra virgolette e anche ad esempio le la scultura delle portiere anche la scultura qua dei lati del muso del cofano insomma assomigliano richiamano molto la vettura che si vede nei cartoni animati a parte cosa a parte ovviamente poi però il motore quindi sa che è proprio di sideburn così come a guardare bene l'altettuccio è abbastanza non è così futuristico abbastanza banale come forma e quindi è in questo caso si un ibrido questa si farà l'auto la dodge viper si trasformava il nostro sideburn con l'auto futuristica della side cosa della shadow striker cyberverse questa si è ibrida soltanto che mi auguro che come scusate come anche come forme sia abbastanza squadrate l'auto le ruote grandi si rifà insomma abbastanza look del veicolo cybertoniano diciamo futuristico della nostra shadow striker però quando rifaranno il ripeto quando devono fare da questo stampo la versione shadow sideburn di sideburn legacy mi auguro che qualcosa cambino a livello ad esempio del muso magari anche un po le portiere ma almeno il muso che lo rendano un po più simile alla alla dodge viper se no sarebbe davvero uno spreco in effetti perché già così come auto sia abbastanza accettabile per essere la shadow striker cyberverse però a livello di di sideburn di dodge viper sarebbe un po non sarebbe proprio il massimo quindi almeno quello spero che in qualche maniera riescano a cambiare queste forme qua non lo so mi auguro ma non mi non mi esprimo quindi vedremo sideburn se sarà abbastanza fedele a se stesso o sarà lui ibrido con la cyberverse perché è capitato così diciamo pigramente la pistola abbiamo detto può sistemarsi all'interno o anche messa sull'unico foro qui sopra del tutto il tettuccio anche i vetri sarebbero dovrebbero essere azzurri guardare la il veicolo sempre del cartonimato di cyberverse però alla fine così rossa saccia con il tocco di malvagio di auto malvagia con il viola ci sta tutta come auto comunque però prendo un auto a caso diciamo già anche un scrap hook qui come auto si non è giusta diciamo bella compatta onestamente come auto quindi pare un po più piccina di quel che dovrebbe essere dall'aria di essere molto compatta molto piccina quindi vabbè diciamo solito discorso in quanto non è un deluxe grande se la trovate a un prezzo non prezzo pieno solito di 30 euro magari un po meno meglio così io l'ho presa scontata per fortuna con l'uscita anzi l'ho tenuta un po tra l'altro l'ho tenuta un po diciamo di riserva l'ho aperta da poco e per fortuna mi ha tirato un po sul morale potremmo dire perché alla fine è stata una bella sorpresa se quando prendi qualcosa così giusto per magari non ti aspetti chissà che cosa invece ripeto è stata una bella sorpresa a livello di trasformazione di forma robotica anche l'auto si fa guardare insomma niente male peccato per il discorso che non cita benissimo la cyberverse il personaggio cyberverse del cartone animato a livello estetico ma appunto è più che altro un antipasto di cyber però anche così presa così diciamo con questa storia del librido fra una linea e un'altra può anche starci e quindi alla fine anche la trasformazione soprattutto è appagante che per fortuna che sia un po mollato discorso della gancia del muso perché inizialmente faceva fatica ma quindi alla fine se avete voglia di qualcosa di nuovo provatela che diciamo a livello di come fermato non è affatto male come le septicum in più ci sta tra le file appunto di anche di g1 diciamo generation anche se è l'unica esponente del cyber verso fino all'uscita no deve uscire anche wind blade ma te la raccomando dovrebbe essere uscita giusto questo periodo qua con la prima wave degli united ma appunto ve la raccomando quella lì invece questa cyber versus shadow striker non è affatto male come personaggio magari vedremo ripeto in futuro se rifanno la ricolorazione patchworka cioè tutti un po alla autobot spike potremmo dire o speriamo che per chi magari aspetta piuttosto lo stampo di sideburns questo sia un po più simile più caldo a livello di a la testa sicuramente dovranno cambiarla ma soprattutto a livello di auto il muso qua qualche dettaglio se lo cambiano è molto meglio se no non so quanti saranno felici di avere appunto questo sideburn che però è un po troppo shadow striker ecco e quindi comunque la consiglio ripeto proprio per discorso anche di vedere qualche faccia nuova rispetto ai soliti personaggi più notti soprattutto anche perché come personaggio di sé non era fatto malvagio in cyber versa grazie quindi per aver visto questa mia video recensione fatemi sapere cosa ne pensate cliccate mi piace condividete iscrivetevi al mio canale ma soprattutto poi andate a fare un salto su vector single punto it dove ci sono la sua recensione le altre recensioni di transformers che faccio io ma soprattutto i fumetti di transformers non sono tradotti in italiano ma anche 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 i sottotitoli per gli episodi di beast wars adattati al meglio al doppiaggio originale usa rispetto a quello italiano dei tempi ma soprattutto un bel salto su autorobot punto it il gruppo italiano dei fan di transformers su facebook seguitemi sui miei canali instagram tic e toc ovviamente qua su youtube e ovviamente su facebook eccetera e quindi ancora una volta tante buone cose del vostro jazz luca e ci vediamo alla prossima video recensione ciao ciao